... Ma cosa fai a quel cinghale di tuo padre? E' così lì, metti e metti qui, perché non li metti qui? Magari posto qualcosa cresce! Ma no, fasciste! E' così lì, metti qui, perché non li metti qui, perché non li metti qui? Sì, metti qui, perché non li metti qui, perché non li metti qui, perché non li metti qui... Cosa fai io? I fai caldo, pieno Somebody speak English? Io parlo italiano Anzi, sono italiano Cosa c'è? Cosa è successo? Lui è Sandro Lombardi, il bambino che abbiamo ritrovato in mano Pronto papà? Papà? Papà, sono io Papà? Dai, vieni con me che ti porto in capitaneria No, preferisco stare qui Adesso ti fai una bella dormita E domattina ti sveglieranno mamma e papà Quando partiti? Non voglio andarmene adesso Volevo dirti grazie Voglio dirti che stiamo facendo tutto il possibile per te la tua sorella Lo buttiamo noi E Maggiorenne Essendo Maggiorenne ritornassero in Romania Come faccio? Io qui, sola Alina! Freddo! Freddo! Alina, Freddo! Freddo! Adesso sembra un destino È giusto che dobbiamo lasciare la nostra città? Nostro paese? Ma lo capisci che non vi possiamo nascondere? Ma ti rendi conto che lui ha imparato a fare senza di noi? Alina! Ma ti rendi conto che io non vi chiedva la nostra città? Cloud Grazie a tutti.